Con la partita giocata fra Piacenza e Vibo Valencia, recupero dell'ultima giornata ancora mancante del girone di andata, si sono definiti gli accoppiamenti dei quarti di Coppa Italia. Col 3-0 degli Emiliani, infatti, la classifica al giro di Boa è ora completa. Domenica 16 gennaio si giocheranno le gare, valide per qualificarsi alla Final Four, partite secche in casa della miglior classificata. Per Trento si rinnoverà la sfida contro Monza, già affrontata in questa stagione, in finale di Supercoppa Italiana e nella gara del girone di andata. Entrambe le sfide si sono chiuse con un 3-1 per il giallo blu. Per i quarti si scende in campo domenica 16 gennaio alle 18 alla BLM Grupparena. Stessa ora per la partita dell'Eurosuole Forum tra Civitanova e Milano. Alle 18 domenica si gioca anche al Palapanini, dove Modena attende Piacenza. A chiudere il cerchio sarà invece la capolista Sir, che scenderà in campo mercoledì 19 gennaio al Palabarton alle 20.30 contro Chione e Padova. Bisognerà invece attendere il 5 e 6 marzo per le Final Four, inizialmente in programma a Casalecchio di Reno per il fine settimana del 22-23 gennaio e poi rimandate. La Lega ha inoltre ufficializzato date e orari di gioco di due recuperi casalinghi per Trento. Giovedì 20 gennaio si gioca la seconda giornata del girone di ritorno contro Vibo Valencia. Alla BLM Grupparena ad ore 20.30. Mercoledì 2 marzo alle 20.30 l'undicesimo turno di ritorno contro Ravenna, sempre in casa di Trento.